Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Spero che nella giornata del 25 aprile di ieri possiate esservi divertiti o comunque almeno rilassati. Oggi riparliamo di No Rest for the Wicked perché, come vi ho detto, siamo in streak e come potete vedere ho 44,8 ore, quasi 45 ore giocate in praticamente una settimana, quindi l'ho approfondito molto questo videogioco. Ma nel video di oggi parliamo di patch, parliamo di aggiornamenti, parliamo di come lanciare un accesso anticipato e come farlo nel modo giusto, ovvero quello di No Rest for the Wicked. Perché ragazzi, adesso è praticamente una settimana che è uscito il gioco, sono uscite 5 patch in 7 giorni e hanno già detto che domani ci sarà un'altra patch, una sesta patch, dopodiché si pigliano una pausa. No Rest for the Dev, praticamente. Non si riposano mai, adesso si riposeranno un pochettino. E tutte queste 5 patch sono abbastanza importanti perché, ovviamente non sto qui a dirvi ogni singolo cambiamento, ma scorrendo vedete che ci sono cambiamenti sia sulle performance, sia sui bug fix, sia sui quality of life e tanto tanto altro. Quindi un costante aggiornamento, cosa mai vista io, io ho giocato molti accessi anticipati nella mia vita, non ho mai visto in una prima settimana così tante patch di peso che vanno anche a cambiare questioni di bilanciamento, di quality of life, di fix, ma anche di performance perché almeno 3 patch su 5 ci sono molte cose che cambiano e migliorano le performance. E anche patch grosse, stiamo parlando di patch da anche oltre un giga. Quindi questo No Rest for the Wicked è partito veramente col botto. Di base è un gioco di una qualità altissima, ha i suoi problemi, sicuramente sono proprio certissimo che li sistemeranno da qui fino a poi l'uscita del gioco, anche perché se è questo il mood, se è questo l'impegno di migliorare e cesellare il gioco già dopo una settimana, non oso pensare cosa succederà fra mesi, mesi e mesi e poi quali sarà lo stato finale effettivo del gioco. Quindi è così che si fa un accesso anticipato, è così che si lancia un gioco in una sua fase diciamo di testing pubblico per migliorarlo in maniera più veloce possibile. Ora non vorrei fare un impietoso paragone, però facciamolo, Dragon's Dogma 2 è uscito con un sacco di problemi, è passato un mese dall'uscita e passa dalla Dragon's Dogma 2 della sua uscita, gioco che in quel caso era in release 1.0 e non era un accesso anticipato e in Dragon's Dogma 2 sono uscite solo due patch tra le quali una oggi, nessuna di queste patch ha minimamente migliorato le performance che sono uno dei più grossi problemi di quel gioco, quindi insomma, giusto per dire. Ma non solo questo ragazzi, c'è anche una volontà per i dev di No Rest for the Wicked di essere veramente molto vicini ai suggerimenti della community e questo tramite vari canali, chiaramente fuori dal gioco, per esempio canali di Reddit, canali come il Discord del gioco, ma anche banalmente con xTwitter. Infatti, se voi andaste a seguire uno dei due figure più importanti, in particolare il CEO, che è anche Creative Director, ovvero Thomas Muller, ragazzi, è una delle persone più attive che abbia mai visto, cioè roba da 3-4 tweet al giorno e tutti propositivi, anche interessanti, lunghi, anche con visioni e domande su quello che succederà dopo, cosa ne pensa la community, sondaggi fatti, in particolare un paio ne ha fatti sul multiplayer, cosa ne pensano le persone, quanti giocatori, come dovrebbero essere i reami, se solamente single player, single multiplayer, ogni multiplayer, insomma, sneak the peek sulle nuove funzioni, per esempio il fatto che ammettono il 32 a 2 noni, in realtà è in questa patch, ieri aveva fatto vedere proprio questo screen in cui effettivamente lui stesso provava nel suo 32 noni, immagino, e cose di questo tipo. Quindi anche seguendo, magari, se siete veramente super appassionati, per esempio i dev, avrete tante, tante informazioni e anche tante interazioni, perché poi, per esempio, lui in particolare risponde letteralmente a tutti, quasi. Quindi è un impegno, in particolare in questo gioco, enorme per cercare di far uscire un prodotto che comunque è e vorrà essere qualcosa di rivoluzionario per gli action RPG, perché come è stato fatto questo gioco, si vede benissimo dopo 50 ore che ci è giocato, mi è chiaro, vuole essere qualcosa che cambia veramente il paradigma degli action RPG alla Diablo Like, ok? Perché questa cosa che il combattimento è più Souls cambia tutte le carte in tavola, cioè proprio il gameplay è completamente diverso. E poi, soprattutto, come è stato costruito il mondo, quanto è interconnesso, come fosse un metroidvania, anche se con questa visuale isometrica, è qualcosa di comunque rivoluzionario se vogliamo, a parte poi anche la bellezza estetica del gioco, perché nessun gioco isometrico è mai stato così complesso a livello di mappa e interessante da esplorare. Letteralmente le mappe sono minuscole, se vogliamo, ma sono così dense e intricate che ci si può passare decine di ore a divertirsi, anche in questo stato di accesso anticipato dove i contenuti sono comunque limitati, ok? E questo è impressionante dal mio punto di vista, soprattutto pensando in futuro come potrà essere il gioco, ok? Insomma, le proposizioni per il futuro per questo gioco sono ottime e credo proprio che uscirà un prodotto molto molto buono una volta uscito in 1.0. E comunque finita questa sfilze di video che vi ho proposto in questi giorni, chiaramente poi passerò ad altro, ma lascerò sempre un occhio su aggiornamenti futuri, per esempio come quello del multiplayer, che non si sa esattamente quando uscirà, però sarà il prossimo grande ampliamento dell'accesso anticipato e lì sarà veramente molto interessante. molto molto interessante, sia per le scelte che faranno, vorranno fare, sia per vedere come le implementeranno, perché ragazzi cambia tutto, un gioco single player con un gioco multiplayer, il co-op o il pvp, cambia veramente tutto. È molto più complesso gestire qualsiasi cosa, perché poi si deve introdurre un netcode, tutto deve essere sincronizzato, il combattimento poi in questo gioco è molto preciso, deve essere molto preciso, perché non è solo un premere tasti a caso e fare skill, ma in realtà è seguire bene le animazioni, le hitbox e tutto quanto, la stamina e tutto quanto, insomma, trasporre tutto questo in un multiplayer su server e quindi che devono essere sincronizzati è tutta un'altra storia. nonché vedere poi come funziona a schermo con più personaggi, sia che essi siano in co-op o in pvp o il pvp come lo vogliono implementare, insomma, quando metteranno quel pezzo di gioco sarà molto critica la situazione, quindi è facile anche fare cazzate, quindi sarò anche curioso di riprovare poi il gioco in quello stato da multiplayer per vedere poi come funziona, se è meglio, se è peggio o qualsiasi cosa sarà, però potenzialmente questo gioco con tutte le sue funzionalità e ambiziose premesse nel suo stato finale potrebbe veramente essere qualcosa di epico, molto epico. Comunque in questo video in realtà volevo semplicemente notificarvi quanto in realtà sono stati bravi a aggiornare costantemente il gioco, quanto stanno seguendo tantissimo, tantissimo fuori di test, cioè oltre ogni aspettativa, gli aggiornamenti e infatti anche le recensioni su Steam adesso sono migliorate, ok? Non sono più mixed, sono per lo più positive, ma sono sicuro che veramente in poco tempo diventeranno molto positive, perché insomma tutte quelle recensioni iniziali stupidissime e inutili negative verranno, diciamo così, sovrastate da quelle positive, perché onestamente c'è poco di male da dire in questo gioco, soprattutto considerando sempre che è un accesso anticipato. Bene ragazzi, per questo video è tutto, volevo solo darvi qualche aggiornamento un po' su come era andata questa prima settimana di Nor'Ast for the Wicked. Per il prossimo futuro, rispetto ai contenuti del canale, vedrete sicuramente qualche altro video su Nor'Ast for the Wicked, ma poi ho deciso di comprare con molta... Ci ho dovuto pensare tanto, Stellar Blade, a 80€, mamma mia, un colpo al cuore, però insomma ho deciso che per il canale è giusto che io lo provi questo gioco, perché è comunque importante a livello di uscite, soprattutto di uscite esclusive di PlayStation di quest'anno, quindi voglio avere un'opinione non solamente così guardando le recensioni degli altri, oppure insomma così, voglio avere un'opinione mia, vera, pad alla mano, nonostante sia un'opinione costosa da avere. Quindi vedrete dei contenuti su Stellar Blade. Dopodiché penso che per i primi di maggio voglio riprendere, dato che esce dall'accesso anticipato, V Rising, che avevo comprato due anni fa in accesso anticipato, avevo fatto qualche video, però voglio vedere adesso com'è il gioco, una volta che è stato finito, pure qui interessante, no? Una evoluzione di un accesso anticipato di ben due anni in quel caso. E poi per maggio vediamo un po' cosa ci propone. C'è sicuramente Hellblade a fine mese, a fine di maggio, ma ci sono anche vari indie in accesso anticipato anche loro a maggio, penso che alcuni di questi li proverò. Insomma, vediamo. Vedendo, facendo, come si dice qua. Adesso chiudo il video ragazzi, grazie comunque sempre per l'attenzione, grazie sempre per il supporto, statemi sempre bene, alla prossima, ciao ciao!